Ciao creativi! Oggi andiamo nel laboratorio di Maschi Design per sbirciare il suo processo di lavoro con la nostra nuova Glass Design, la resina per i grandi spessori. Sara è un'esperta artigiana che realizza da anni arredi legno in resina e utilizza questa resina per i suoi lavori. Le è piaciuta fin dal primo utilizzo, quindi vogliamo raccontarvi questa nuova resina epossidica in casa reschimica attraverso i suoi feedback. In particolare, Glass Design l'ha colpita per la sua trasparenza e formulazione innovativa. Il punto di bianco di questa resina contribuisce ad ottenere una trasparenza impeccabile, mentre la sua formulazione riduce al minimo la formazione di bolle d'aria all'interno dei manufatti. Essendo una resina per grandi spessori, consente di versare l'intera quantità necessaria nella cassaforma o nello stampo in una sola volta. Questa capacità elimina il rischio di differenze di colore. Il suo tempo di catalizzazione lento consente alle bolle d'aria di emergere quando la resina è a contatto con materiali come, ad esempio, il legno. Il manufatto finale sarà privo di imperfezioni indesiderate. La bassa viscosità di questa resina, inoltre, permette la riproduzione più precisa di tutti i dettagli. Infine, la resina Glass Design non si surriscalda durante la fase di rifinitura, evitando il rischio di impastare gli strumenti e graffiare la superficie assicurando una finitura di altissima qualità. Creativi, questi sono i pareri di Maschi Design. Fateci sapere se vi sono stati utili, ma soprattutto se avete provato questa nuova resina. E cosa ne pensate voi? Vi aspettiamo qui sotto nei commenti su tutti gli altri social ResChimica. E vi ricordiamo che la Liquid Glass Design è disponibile su www.reschimica.com Buona creatività a tutti!